Prima di iniziare questo video ci vuole una piccola premessa dato che è successo un casino qualche giorno fa e abbiamo fatto finta di nulla Praticamente sapete benissimo che per l'assistente segreto numero 2 stavamo mettendo degli indizi per farvi scoprire il nome Cioè stava mettendo lui degli indizi per farvi scoprire il nome Durante una live però stavamo giocando a Fortnite Ho aperto la lista amici per invitare non mi ricordo chi forse fere, non mi ricordo chi mancava nel gruppo Fatto sta che alcuni consolini si sono resi conto che uno dei nomi che c'erano nella mia lista amici Iniziava con l'h e andava avanti con tutte le lettere che state scoprendo Quindi hanno fatto 1 più 1 uguale 2 e hanno scoperto il nome Quindi l'assistente segreto numero 2 e non dirò il suo nome fino a fine di questo video ma da quel momento in poi sarà ufficiale Quindi in questo video chi non lo sa scoprirete il suo nome E si è un po' arrabbiato com'è perché ho rovinato tutta la cosa di scoprire il nome E di conseguenza da quello che so in questo video mi vuole torturare Esatto Cioè già normalmente lo fa quindi non capisco bene che tipo di torture saranno In ogni caso come promesso avevamo detto che avremmo nominato la prima persona Che avrebbe scritto il nome animals nei commenti Sì lo inizio a dire Ed è Bene V Proprio chiama Bene e poi c'è una V con un punto Ok Ok Metto anche lo screenshot del commento così la vedete È stata la prima persona in assoluto a scriverlo nei commenti Sì se qualcuno ha scritto in live raga mi dispiace ma quelli purtroppo non si possono recuperare Però la prima persona che ha scritto nei commenti è lei Di conseguenza Congratulazioni Sei stata la prima Siamo pronti Farè? Eh Cioè sono pronto Io sono tranquillissima cioè sono a posto Allora Fatemi capire un pochettino Cioè anche perché sinceramente se lo meriti eh Cioè sei stato sbagliato Benvenuto Stef dovrei affrontare Perché ci sono dei cartelli messi in corso Dovrei affrontare otto sfide per recuperare tutti gli otto domani Posso leggermelo io almeno? No Mia la tortura mia la lettura Ah ho solo delle bistec Bene Sì anche io Allora Benvenuto Stef Dovrei affrontare otto sfide differenti per recuperare tutti e otto i diamanti Buona fortuna by H Tutto questo perché hai eserato il mio nome Ormai l'ho già spiegato però mi dispiace Allora 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 No Ah sì perché H e si parta con la E Ok Recupera il primo diamante c'è anche scritto Ok Questo che vada in ordine quindi Quindi devo recuperare il primo diamante Io non sono una fere Ho già notato che c'è questa linea qua No l'ho vista anche io ma che vuoi Che è una trappola Non provare a buttarmi ci sopra Tu sei soltanto un'osservatrice No non credo Stef Quindi se io Non credo Zompetto Dove sei finito? Era un blocco invisibile? Qualcosa del genere Ok ok Corsa Stef Quindi zompettando devo andare qua Seguire questa strada E recuperare il primo diamante Ok E poi tornare indietro Ok te lo sei cavato bene dai Non male non male Quindi consolini H E E va bene E che già ho detto all'inizio Adesso siamo alla N Recupera il terzo diamante Infatti secondo me si è appena arrabbiato ancora di più Perché l'ho detto all'inizio Ma questo è terzo Aspetta Stef E ma Eeeh Ah no è terzo anche lì È sbagliato il cartello Ok Ok È secondo È secondo Fail Allora Oh io ho letto terzo Ho detto vabbè andiamo a cercare il secondo Allora Ok Allora aspetta Ah qua c'è la N Stef Sì ok Parliamoci E qua c'è una pecorella No devi parlarci tu secondo me Perché Adios Bye bye Stef Ciao Non mi guardare mentre muori È inquietante Muori e basta Ah secondo me devi parlare prima di tutto con lui Benvenuto alla fattoria del Mal Cof Cof Dicevo se vuoi questo diamante portami un blocco di lana Ok E infatti E infatti E infatti E infatti Allora Ferri ti devi togliere le scato E sei sempre in mezzo Ma che vuoi Mi stavi facciano cadere Ma non è vero Allora Che sta succedendo Ci sono trappole ovunque E li vedo questi spuntoni Ok Così io adesso dovrei sapere dove ci sono le trappole Devo fare così Ce l'hai fatta? Vabbè ce l'hai fatta Dai il blocco l'hai preso Quindi è una vittoria Stef Su Quante morti solo per questa? Tre o quattro? Siamo solo alla seconda Dei fa auto in tutto Stef Io vi sto divertendo Salve È molto bello vederti Grazie per questo diamante Ok Allora la lettera numero tre Perché qua ci sono delle stanze per fare? Recupera il terzo Porta per Stef Ah bello Ma io sto andando qua a fare credo Ah no quarto Questo è il terzo Ok Aspetta 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 Spiegami un attimo Ah vieni 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 Oh Stef Entra dentro ti prego Ho dei bottoni da premere Teleport Premiamolo Ok arrivo dall'altra parte Mi vedi? Sì Quindi posso andare da una parte E dall'altra E lui cosa mi dice? Oh ma guarda anche tu ad aiutarmi Se vuoi tornare indietro dimmi pure Ti aiuto da questa parte Oppure voglio tornare indietro E qui c'è la I Ok Alla I Voglio tornare indietro Ok torno dove sei tu Quindi Cosa mi significa? Non lo so Stef Penso che dovrò premere Ed esci Non sai che ho problemi? Dovrò premere dei bottoni e basta Allora recupera il terzo diamante Io non l'ho premuto È successo qualcosa? Ti ho attivato qualche trappola? Eh sì Mi sa proprio di sì Allora L'unico modo che io ho Per non morire È stare sopra le slab Però Fere ha delle cavolo di ventole incredibili Per farmi il vento e buttarmi giù Ma davvero? Perché io non lo capisco bene da qui che sta succedendo Ma la figa Ho premuto tutto Mi dispiace cara Ce l'hai fatta? Sì Però aspetta Vado anche dall'altra parte Voglio premere anche queste Le premo tutte Stef Torna dentro Dai le premo tutte No no ciao Vabbè aspetta Mi arrivo Devo tornare indietro Ok Sei stato troppo bravo però Lo so grazie E recupera il quarto diamante M No un labirinto Però qua c'è Porta per Stef Porta per Fere Ok Io entro qua Ho una ceste Ok ho un'ascia che mi dice Ammazza Stef Si chiama proprio così Un libro E tanti bicchierini di latte Ok me li prendo tutti Perché evidentemente saranno utili Allora Ah Io sono in un labirinto E non vedo una ceppa Sai che mi dice il mio libro Stef Lo vuoi sapere? Ti conviene saperlo Te lo dico Ciao Ma ascolti No Fere tu sei invisibile Cerca di ammazzare Stef Senza farti notare Lui sarà accecato e lento Ma non dovevi leggerlo Si che te lo leggo Perché tu adesso sei che io Sarò sempre dietro di te Il problema è che Questo labirinto è davvero Complicato Ma stai dove sono? No Ok Ridevo per altri motivi Immagino che qualcuno Mi abbia trovato Ammazza Stef Ma che cos'è? Eh lascia Si chiama così Si chiama ammazza Stef Devi tornare? Eh? Facciamo un altro round No no Dai Stef Ma l'hai preso il diamante almeno? No non l'ho trovato Ah allora devi tornare caro mio Stef Non c'è Allora cosa mi regali? Nulla Voglio un regalo Se mi fai un regalo Non ho nulla Ma lo fai in un altro momento Scusami eh Inventati qualcosa E io ti do del latte No ma non c'è il diamante Fere Allora sai che cos'è? Eh? Che probabilmente Qualche ceste nascosta Sono quasi sicura Dici Per forza di cose Dove essere una ceste nascosta Altrimenti dove l'hai visto? Io il ceste qua non l'ho visto Io vedo bene Non capisco Siccome ci sono in faccia Ah eccola Oh mamma mia Sempre più brutta Che problemi ha avuto in faccia? Eh i soliti Vado qua Ok ok No È bellissima sta roba Ma sei pazzo? Ma Non hai capito Che sta succedendo? Ma Ho due bottoni sopra Fere ti ho rubato il libro E sapevo già la trappola Quindi ero già pronto Ah ecco perché Non c'era niente Maledetto Non mi devi rubare le trappole Hai rotto le scatole Come sta andando? Sta andando che? Come sta andando Steph? Male L'hai trovato? No non c'è Controlla nel muro I blocchi diversi Magari sono una cesta nascosta Sì Vero? Sì Ok Eh il problema è che io come Ci torno indietro Ah vabbè posso saltare dai Fere? Tirare tanti serpenti Che vuoi? È molto divertente vederti Ce l'ho fatta Non mi puoi buttare giù Vai via Ce l'ho fatta Vai via Ok Ce l'ha scritto Fere deve andare nella parte di su E suonare tramite dispenser Più serpente che puoi Finché non trova il diamante Non può tiparsi da te Quindi io potevo tiparmi da te A quel punto E recupera il sesto diamante Eh? Aiuto Che è successo? Non lo so Choose your pet name Che cavale è stata schermata? Fere si è rotta Sì Non puoi premere al centro? No Non posso premere niente Eh done Esatto E allora Io devo andare qua Ah vabbè Un semplice parkour Ok Mi sembra abbastanza facile Non so Se magari Animus non sa che Comunque nel parkour Un minimo me la cavo Però È abbastanza semplice Ok Ok Io ho capito che devo fare Più o meno Cosa devi fare? Scusami Puoi fare qualcosa anche qua Non basta il fatto che è un parkour Sai che mi ha fatto fare? Ah ah La creative è un arco Per andare a disturbarti No Eh sì 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 E io nel mentre volo Però aspetta Sei tutto tappato da blocchi visibili Forse c'è un pezzo specifico Cioè praticamente ha creato una data Forse è qua Raga ma che mappa ha creato comunque Cioè per torturarmi si è impegnato Ma molto Ma molto Doveva essere parecchio arrabbiato Cioè Porca miseria Con tanto sentimento di rabbia Aspetta Ecco così Questo è il punto Da cui ti devo Figliare Però tu non passi spesso qua eh Beh Ok Credo che ti siedi da conto Che i miei problemi Sono ben altri Ma è difficilissimo Prenderti con le frecce Sì ma aspetta Che vuoi? Motopress Aia Io stavo facendo una cata Troppo semplice Ma è impossibile sta roba Ok Cioè Cavolo da lì non ti vedo Maledetto Ok ora si Mi hai sferato Perché riesco a capire Dove stai andando E tiro la freccia Capito? Che questa era vicina Quanto è difficile Quel parkour Steph Vieni a fare il parkour Invece che ti ha le frecce Vieni Questo è il mio compito Steph Chi è che ha sbagliato Quella lista amici? Tu Era tutto bello Ci stavamo tutti divertendo Con gli indizi E tu come tu solito Hai rovinato tutto Ferre non provare A tirarmi le frecce Adesso che sono avanti Certo che ci sto provando Che è successo? Il vetro è un blocco invisibile No Che cattiveria Dai riprendila lì Se lo diventi pazzo Ok Riprendila lì Dai Ah se lo rifà Coraggiosa Dai non ti tiro le frecce Vediamo se lo fai Così non devi pensare a quelle Perché mi stai iniziando a far pena Steph Non mi piace che tu mi faccia pena Capisci? È un po' triste Come funziona? Dov'è la parte vera di quel blocco? Non so Prova ad atterrarci Vediamo Secondo me i bordi I bordi No non è un finto blocco È una barra Non è Capito? Sono i pezzettini di vetro Esatto e non le Ah comunque io da qui Ti posso disturbare per bene Ok ho evitato di prenderti Per gentilezza Sono rimasta in alto Per non rendertelo troppo difficile Però è andata benissimo Mi sono divertita molto Dove sei? Aspetta io devo riprendermi L'adventure mod Cioè ho premuto il bottone E mi ha ucciso Ah E non mi ha dato il diamante Io mi riprendo l'adventure mod Come non ti ha dato il diamante? No Hai sbagliato allora Aspetta arrivato su Ok mi rimetto la creative Vediamo Non capisco Perché è così difficile? Ah questo è fine Deve essere qualche indizio Ah è qui sopra Era il troll Mi dispiace Punzecchia Steph Si chiama l'arco Cioè praticamente Scusa Steph era divertente Si era un troll Te lo devi riprendere Si io comunque posso scendere parecchio A disturbarti Ma non voglio esagerare Perché stai andando malissimo Quindi stai con me Stai andando malissimo? Si Abbastanza Abbastanza male Siamo solo al sesto E tu sei ancora così Dai finisci Qua tra semerità Tra semerità Non mi puoi tirare nulla Muoviti Che fai nascere altri serpenti poi Dai ti lascio finire L'hai già detto tre volte Dai se no mi sono decisa Basta Si ho visto Fami vedere se poi è qua Sei schifo Sono sicurissima Sei una persona orribile Io Tu ti sei fidato di fine Quando chiaramente sopra c'è altro Ma che ne sapevo Ma si vedeva C'è un bottone più grande di te No vabbè raga C'è un serpente L'hai fatto nascere te Si T'avevo detto che poi facevi nascere il serpente Aspetta che te lo uccido Due serpenti Aspetta Ti riuscido Ci mancava un solo loro Ti riuscido Ti riuscido Adesso colpisce a me No con le frecce Ce la faccio Sono molto in basso E sto puntando solo al loro Steph Ti prego Vai su Non ti sopporto più Steph Steph ascoltami Steph 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 Ascoltami Steph Oh Pazzite Vai nella mia piattaforma Ok Non posso Vai nella parte rosa Non posso Vai e te lo finisci C'è un bloc invisibile Non puoi uscire? No Mi dispiace Io volevo essere gentile Te ne venevi qui su Così potevi volare E te lo finivi Perché sta diventando Un'agonia sta roba Forza Steph Forza Steph Tecnicamente devi andare qua E nella scala Vedi? Oddio no È impossibile C'è la cesta lì in alto Premi il bottone Che succede? Ah ti riporta giù Aspetta Me lo premo pure io Ok Mi riprendo l'adventure Aspetta Che qua tala È in automatico Ok A che punto siamo? Settimo? Scegli la porta giusta No mi piace questo gioco No mi viene con te Ok quindi quella Non era la giusta Dai Steph Questo è divertente Vieni Ma che divertente Che divertente C'è ancora quello Ecciso io in mano Ciao Ma Perché io sono caduta In questo? Cioè Dietro di me C'era una trappola? Sì Non so come hai fatto A superarla Ero troppo veloce Forse Allora Quindi non è quella Porta che hai preso te È questa al centro Ma perché io ci cado? Perché io le sto prendendo E te no? Com'è possibile? Cioè Quindi Quale accidenti Ti porta È quella giusta? Non capisco Mi stai confondendo Secondo me è questa Sì Questa è giusta Ok No Steph Questa ho appena detto Ma io lì prima sono caduto Non sei caduto E ti ho visto che le hai fatte dritte Ma Non so Non lo so perché Steph Sei riuscito in qualche modo No questa è quella giusta Ok Vai avanti Poi devi venire al centro Ok È l'ultima È a sinistra Questa Sì Ma non è vero Pensavo di sì Ma fai schifo Stavo avanti a te Era la centrale Ok Complimenti Ah ecco il diamante Ok Finito? Sì Esci fuori Allora Adesso devo affrontare Animals E finalmente posso dire Che non mi è coperto tranquillo Perché tanto si è capito Recupera l'ultimo diamante Ma è enorme Steph Ed è cattivissimo Sì mi ha fatto le mele d'oro Non ti dico altro Quanto sarà forte? Non lo so Oh cavolo Steph Steph ti sta già attaccando Maledetto Maledetto Serpenti È bellissimo Alla sfida Labyrinth Che non vedevo Maledetto C'è un libro però Che ti dice? Complimenti by Animos Nome completo Ce l'hai fatta Steph Bravo Sì ma ne manca uno Non so Non siamo riusciti a trovare Quello del labirinto Vabbè Non lo so Chissà dov'è Chissà dov'è finito Infatti Chissà dov'è Chissà dov'è Non ne ho idea In ogni caso Mi ha torturato a sufficienza Finalmente sapete Il suo nome Che è appunto Quindi Animals Io voglio controllare Questa magari Tipo qua Ma ce l'ho detto Non c'è niente Boh Non lo so Chissà dov'è finito Non ne ho idea Qualcosa deve essere Per forza un blocco invisibile Che in realtà C'è sfuggito Esatto Esatto Però Dove? Cavolo Io ho premuto Praticamente tutto Non lo so Steph Non lo so Forse è nel pavimento Non ne ho idea No io ho provato anche il pavimento Ecco Non vedo più nulla In ogni caso Ci fermiamo così È stato un video doloroso Molto divertente Faticoso A fare è piaciuto tanto Molto Sì è stato bello Qua sotto Come sempre Compareranno altri video Iscriviti al canale Campanellina Ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 ciao